ahhh 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 Joker mi chiamo Joker ahhh 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 Vittorio hanno ucciso i miei genitori ahhh quelli della banda quelli della banda si si ehhh si ehhh si 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 ahhh 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 molto 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 cosa e cosa va bene anche se una mitraglietta si 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 infatti no no ecco spa ahhh eh se tu vai veloce come sparo eh se tu vai veloce come sparo balla se disto qua o lo si no ecco ecco ahhh adi è morto aspettami vai vai sta a fuori la polizia vai vai però non sono morti tutti devo fare il ritorno c'è la polizia ci vuole uccidere no c'è qui là c'è incastrato diamine ok corri corri gira no no sta all'auto sta all'auto la polizia davanti attento c'è la polizia ti ha visto ti ha visto vai sopra vai sopra c'è una lampa lo conosco a memoria questo posto ok sì sì no infatti allora sì ok 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 ci siamo sì ce l'avevo fatta festeggiamo compriamo qualcosa senza le armi poverino non voglio non voglio ma è infatti prendo tutto sì sì grazie ciao sì sì ok ok anche casa mia madre andiamo sì sì infatti infatti è meglio aspettare il prossimo giorno sì 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 beh infatti sì 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 anche io anche io sì 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 ok ok buongiorno buonanotte quali sono sono le 11 e 56 quasi le 12 rapidamente le 12 le 12 di mattina si 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 io mi vado a cambiare nel piano di sopra ok 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 sì si ha fatto sto proprio fresco ciao 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 mi metto qualcosa addosso sì sì ho trovato questo nel tuo armario io ho trovato questo io ho trovato questo io allora cosa facciamo? possiamo? ragazzi insieme al prossimo colpo possiamo fare un attacco aereo? ok io ho visto che erano i tanti sì no no non sta piovendo ma è di malefondo Vai al letto Mi si è tolta la maschera per dormire a meno Penso che te la tenevi Ehm, boh, chiudare l'ho lasciato sul mobile Piovendo, no Piovendo, no Grazie. 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 E questo è la ticchiera casa. Certo. ma non ti doveri per la doccia ma sono quale te un attimo arrivo indosso questo vestiti da solito ok mica che non mi contare dei bambini che moto prendiamo andale 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 vai vedi che bella vai andiamo c'è la porta no questo è detto meglio gli faccio il ditto è meglio tutto 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 va bene il dottorio va bene il dottorio va bene di pomeriggio per essere un'amma aspetta mi scelgo l'amma bella bella ecco una bomba va bene ah no perché la bomba no io ce l'ho questa pistola va bene ok ok io le ho tutte le qualche avventi alle anche 8 basta poi diventano un dottorio poi diventano un dottorio ok io ce l'ho già tutta la pistola ok come no un popolo con l'ultimo ok ok c'è la pisteretta piccola io si io l'ho già preso io vado fuori e ciò preso eh sì eh questo aprire la luce sì viene ho fatto scazzare il fattore ad abbiare lui mi stava sparando questa medaglietta è perfetta vado con bella la mia medaglietta ok non sparo non sparo sì ferma 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 gli busta la porta mi ti accoppio che aveva questi questi si sono arrabbiati è una pende è quella che uccisce la mia famiglia come non è quella ok questo si è arrabbiato io devo lasciare oddio attenzione che muove apriera pula sì ok adesso si fa la testa sì è cosa cazzo 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 e fammi risparare sono nell'auto nella mia famiglia ci sono 30 persone ne devo ammazzare da meno 30 se è una tua famiglia che beblavo ho tre coppie dietro la schiena ho sette coppie dietro la schiena tanto la polizia ma non sta la polizia ci ha visto abbiamo solo due stelle poteva andare peggio ma ecco questo è peggio vai questo è peggio non prendo io we are the champions e anche io lo so fare mi sono dato i cosi non è che esiste la polizia montagnosa la polizia è montagnosa qua sulla montagna no aiuto era un amico io conoscevo dei permesso di pedale per tutt'una che mi bagagliare perché io è un amico 1 2 3 4 5 6 7 ho 8 colpi hanno ci sopporto i genitori una per te e una per me una per te e una per me cosa cosa l'hanno uccisa andiamo hanno provocato delle famiglie sbagliate non sono peggio sono non è il 9 infatti ok siamo alle 4 ma bene si ok mi chiamo chi è Ale ok che cosa è questa è una metallietta tu ubriaco non si beve scappa ha la pistola vai vai scappa stanno quelli davanti stanno quelli davanti muori questi sono quelli che hanno aiutato ad ammazzare la tua zia no dobbiamo finire la storia ecco così no così la storia non la finiamo la storia così non la finiamo scappa si anche a me mi stiamo seminando ma non stanno alto l'unità mia di Kuga vai giovedì vai a costo della morte ok attento sto a pizziare avanti vai 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 corri impegno se poi vai vai no non ci vuole ok siamo sicuro questi sono persone buone ci sei possiamo scendere a me fa male il culo stare seduto no questi sono buoni sì infatti questo è l'incontro a tutti i giovedì che ci scambiamo un pochino di zi però frattano sono lei grazie mille euro a ogni persona è la polizia andiamo a casa tu cosa? la penne aspetta possiamo vedere i film andiamo a vedere i film mi devo cambiare un attimo sono andato a fare una cosa ho dato dei soldi a un amico mi devo cambiare dimmi se sto bene così guarda sto bene questi vestiti sono per me gli accampati per me la stessa misura mia perfetta perfetta da questa ok anzi mi prendo qualcosa ah così sto proprio bello a natale siamo tutti più gentili guarda sto bene ok questo è un valore oggi guarda 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 Vittorio, sì Vittorio, il video ha 30 minuti, il video ha 30 minuti Ok. Sì sì. Allora, are you going to hear from the university? Sì, sì. Vai, sali. Da tanto che non guida un motore. Ah, ecco perché stanno i pazzi di strada che passano con il rosso. Stanno i pazzi di strada. Dove sei? Sono asceso. Ah, dove sei tu? Dove sei? Dove sei? Ah, sei là. Ma perché sei là? Che ne sapevo il... Che ne sapevo il... Che tu stai là? Ok. Che ammazza? È lo lupo. L'avete già fatto se lo volevo rubare. Ho una pistola puntata sulla tua testa. Esatto. No, 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 no. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vado. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Andiamo. Ma... Ma... è è no è adesso è superato posso rubare quell'auto uffa posso rubare quell'auto uff ecco il pomodoro questa ma fa schifo quella bianca aia 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 no ti sparo dai 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 ok andiamo vai no sto fuori metti le chiave al tuo motore togli le chiave al tuo motore non sto parlando togli le chiavi è il tot è il tot che hai io sto qua riguardo puoi uccidere una persona perché la tua maschera mi fa labiare la tua maschera mi fa molto labiare come va la vita? eh? bella? come va? state bene? eh? ciao Luca come va? bene ok Francesco come va? bene Vittorio 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 dove sei? Vittorio ah Vittorio 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 vieni da me te ne andiamo frena frena vuoi conoscere i miei amici? non posso salire non posso hai messo dei spuntoni che non posso salire ok adesso si vai prendiamo la macchina prendiamo la macchina fammela rubà fammela toccare ho rubato la macchina a a as casi no ti ma mandano Volevo vedere che arrivo, sono più veloce. Volevo vedere che arrivo, sono più veloce. Sono elevato, sono meglio. Che male, che male. Ciao. Ciao. Ah, ahia. Ahia. Sì, 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 bellissima, bellissima, bellissima. No. No. Ma non dobbiamo tirare la vuota. Eh. Eh, festeciare, beviamo, ci beviamo. Bella sta autora, voglio fare. No, ricambio di vera, così è bella. Se ricambio di vera è bella. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Prima tu, prima tu, prima tu, ah lo fai il cavolo, tanto se becco l'auto, se becco l'auto è mia, ha ha, per favore, per favore. Solti, sì, sì, soldi, godo, godo, godo. No, non vale che divento soldo, soldo. Non alto, non alto, non alto, non alto, sì, ma pepe. E io, io 80.000 euro, tu 15.000 euro, money, money. Neanche io. Dove andiamo adesso? Eh? Ok. Lo stesso. Ma che... No, io voglio dormire. Noi, ho detto che voglio dormire. Stanotte non abbiamo dormito. Io devo portare l'auto a... la casa mia. Me la porto lo stesso. Me la giuro. Io ho dato dormire. Adriano. Mi ho dato... Stavo volando. Sì, stavo volando Avevo imparato la tecnica di volare con l'auto Sì Sì Sono venuti da difendere Andiamo in paradiso Ok, va bene, un pugno Senza la maschera 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 Mone, mone, mone Attenzione, attenzione, attenzione Attenzione Azione Ah Cos'è la radio della tua nuova moto Bella Se vuoi suonare le orecchie è perfetta Eccomi qua Aia Devo prendere una moto Ovvio non la voglio comprare Quindi la lupo Non la voglio non la voglio comprare auto nera, colandone... ah, casi no! perchè ne hai due? ma io ne avevo due di casa, ma adesso ne ho una la hai la? che da cosa ti sei ispirato? io ho l'auto nera! bevo succo alla pera, io ho l'auto nera! no! no, tu vorrei... ho incontrato Gesù, lo stavo per incontrare e vieni, non vedrai mai alla mia velocità sono troppo veloce dove devi andare, devi venire da me, non mi raccigerei mai! non usare che muoio di buon d'età chiamata, chiamata, vittorio! ciao! ci incontriamo al... ciao boh, questo ne ho anche salato questo per fare bella figura mi prenderò prestato di schifo presa ciao vittorio! scusa scusa, 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 sono molto... ehm... dove andiamo? puoi togliere la musica? puoi togliere la musica che è... oh... ok madonna santa ed è un elencio Chianton dubbio ? fermo, fermo, fermo oh questo delle auto belle 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 vado a rubare quell'altro bella devo chiedere ok macchiata pure con il mio sangue non mi piace più andiamoci ho pochissima vita aiuto 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 devo zappare la terra se voglio qualche helvo 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 zappa la terra zappa la piglia zappa la piglia devo tagliare l'albero eh si sto tagliando l'albero spostati se non ti prende a te cosa non ci credo no cosa ti ha detto scappa scappa se è colato scappa questo infame io che lavoro e loro che mi uccide tagliamo l'albero 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 ecco sappiamo l'albero a sta piovendo devo andare a casa eh chi mi ha parlato? vabbè devo andare a casa chi mi sta parlando? rubo quest'auto così ok prendo questa per non farmi riconoscere che l'ho rubata devo andare a casa aiuto signore era rosso questo invece di dioci devo andare a casa mia eccola basta a cosa chi era che mi ha lotto il finestrino ah vabbè tanto a mio amore si stanno prendendo finestrino aiuto aiuto ah vado io non vado a casa aiuto scappo scappo mi abbasso così ah scappa cosa vuoi? ci danno tutto ma la mia vita no la mia vita no ahhh 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 accumulated ahhh 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 Stato! 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 Non mi vedo mai! Non mi vedo mai! No! Faccio quello che vuole! Faccio quello che vuole! Faccio quello che vuole, signore! Aia! 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 Dottor! Ecco il cazzo! Domanda la tua parare è miata! Tutututututututu! Tutututututututu! Quello che è successo ieri non si ripeterà mai più! perché io sono un purgiotto e per accorto e legame io sono fonte ah ah ah